Sono i dettagli a fare la differenza. Ne è un esempio l'edizione speciale Peugeot 2008 Black Matte, che trova in una vernice opaca il suo elemento caratteristico. Questa versione accattivante ha conquistato davvero tutti. E voi cosa ne pensate? Scrivete nei commenti la vostra opinione. Vi aspettiamo nel nostro showroom per vederla di persona. Siamo la Ratti Non Solo Auto e ci troviamo a Barzago, nel cuore della Brianza. Grazie a tutti.